Dopo i vari slittamenti di programmazione, l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi è finalmente andata in onda. La diretta è stata vincente fin dall'inizio. I naufraghi finalisti sono stati eliminati, uno ad uno. Gli ultimi due rimasti sono stati, Marco Mazzoli, e Luca Vetrone. Saranno loro a contendersi la vittoria finale del reality. Nell'attesa della proclamazione del vincitore, il popolo dei social si è spesso lamentato, per la quantità enorme di pubblicità mandata in onda, ad interrompere una diretta che a molti è apparsa interminabile. A dirla tutta le lamentele non si sono limitate solo alla pubblicità, ma anche al fatto che, pure nella finale, i nostri naufraghi non hanno esitato a litigare e battibeccare. Ma si sa che nei reality funziona così. Ed eccoci arrivati allo step finale della diretta. Come tutti ormai avevano previsto, il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023 è, Marco Mazzoli, Il conduttore ha dedicato la vittoria a Chico Forti, scatenando un commosso applauso anche in tutto lo studio. Che ne pensate? Soddisfatti per la vittoria di Marco Mazzoli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.